Benvenuti alla resa dei conti finale di Terra Amara. Oggi, in un vortice di emozioni che si intrecciano come i fili del destino, vi sveleremo gli epiloghi dei personaggi che hanno camminato con voi in questo viaggio straordinario. Vi ricordo che questo è uno spoiler, quindi se non volete sapere cosa accadrà nel finale di Terra Amara, vi consiglio di interrompere qui la visione. Iniziamo dal cuore pulsante di Terra Amara, l'indomabile Zuleia, la cui vita è un romanzo scritto tra le antiche strade di Istanbul e le vaste terre di Cukurova. La sua è stata un'esistenza segnata dall'amore incondizionato, dalla perdita straziante e da una resilienza che ha radici profonde nella terra di Adana. A 72 anni, con l'anima scolpita dagli anni e dal dolore, Zuleia rimane la custode incrollabile della tenuta Yaman, un faro di forza e dedizione, circondata dall'amore dei suoi figli, senza un compagno al suo fianco, ma con il ricordo indelebile dei suoi amori passati a vegliare su di lei. E che dire di Leila, la figlia di Zuleia e Demir? Dopo aver studiato a Berlino, ha solcato i cieli della carriera internazionale, portando la compagnia Yaman a nuovi vertici di successo, un tributo vivente alla tenacia e alla visione di suo padre. La nascita di suo figlio, Demir, è stata una stella che ha illuminato il cammino, un legame indissolubile con il passato che promette speranza per il futuro. E poi c'è Fikret, il giovane dal cuore inquieto che ha navigato attraverso tempeste di dolore per approdare infine in un porto di felicità. Il suo matrimonio con Zainab, l'insegnante che ha scelto di amare oltre ogni ostacolo, è stata una cerimonia dei sogni, segnata dalla gioia pura. Dalla loro unione è nata Mushgan, un fiore cresciuto sulle rovine di un amore perduto, simbolo di rinascita e speranza. Non possiamo dimenticare i fratelli Keremali e Mushgan, che hanno raccolto l'eredità tessile di famiglia, un tempo a pannaggio dello zio Fecheli, portandola a nuovi apici di gloria. La loro storia è un inno alla perseveranza, al legame di sangue che trionfa sulle avversità, tessendo insieme il passato e il futuro in un arazzo di successi. Fikret ha 74 anni, la sua vita è ancora una melodia dolce, intrecciata con quella della sua amica Zuleia, un richiamo alla speranza che anche dopo le più oscure notti l'alba è sempre pronta a sorgere. Lutfie, un nome che risuona tra l'eco della determinazione e della gentilezza, ha tracciato un percorso luminoso nel cuore pulsante di Cukurova. La sua ascesa da umili inizi fino a diventare il sindaco amato e rispettato della città non è stata altro che la testimonianza di un'anima indomabile. Dopo aver servito con passione come ministra dell'agricoltura di Adana, Lutfie ha concluso il suo viaggio terreno circondata dall'affetto di coloro che ha amato, lasciando un'eredità di speranza e ispirazione. È stata sepolta, accanto al caro amico Fecheli, parla di legami che trascendono la vita stessa, unendo le storie in un tessuto di ricordi indimenticabili. Nel cuore di questa saga familiare, Cetin emerge come custode di ricordi e sentimenti inestinguibili. Il suo amore per Gulten, una fiamma che non ha mai smesso di ardere nel profondo della sua anima, gli ha segnato un percorso di vita ricco di dolce malinconia e speranza. Nonostante il desiderio di ritirarsi in tranquillità, il destino aveva in serbo per lui un ruolo diverso, quello di presidente onorario della fabbrica tessile di Fikret, un titolo conferitogli dai figli di Fikret, che aveva giurato di servire con dedizione. Ma è nell'incontro con Izel, una maestra dal cuore generoso, che Cetin ha trovato un nuovo capitolo della sua storia. Da questo legame, nata sotto i segni dell'affetto e della condivisione, è venuta al mondo una figlia, a cui hanno dato il nome di Gulten, in omaggio all'amore perduto ma mai dimenticato, dice Cetin. Nel quieto mormorio delle storie che tessono la trama di Terra Amara, emerge il racconto di Gaffur che si è sposato con Gulsum. In una notte estiva, sotto un cielo costellato di ricordi, Gaffur ha concluso il suo viaggio terreno all'età di 75 anni, circondato dall'amore di coloro che ha tenuto cari. La sua eredità vive nella piccola Uzum che, armata di sogni e determinazione, ha seguito il richiamo della conoscenza fino a laurearsi con l'Ode in medicina. Grazie alla borsa di studio, Honkar Yaman ha potuto spiccare il volo verso Gli Stati Uniti, dove oggi guida con passione la clinica pediatrica di un prestigioso ospedale di Chicago. Nel tessuto di questa narrazione incontriamo anche Fadik e Rashid, il cui amore ha dato frutti luminosi. Kenan, un ufficiale dell'esercito, e Phyllis, una delle avvocatesse più rispettate di Chukurova. La loro esistenza, intrisa di felicità, è un inno alla speranza che fiorisce anche nei terreni più aridi. Ma ogni storia ha le sue ombre, e terra amara non fa eccezione. Sermin, la cugina di Demir, ha vissuto una vita segnata da tragedie, culminata in un destino crudele mentre prestava servizio come addetta alle pulizie presso il municipio di Chukurova. Un infarto improvviso l'ha colpita, lasciando un segno indelebile nella sua esistenza e in quella di sua figlia, Betul. La tragedia ha avvolto la loro vita in un velo di dolore dal quale Sermin non si è mai completamente ripresa. Dopo aver trascorso ventiquattro lunghi anni dietro le sbarre, Betul ha visto la luce della libertà. Tuttavia, il richiamo di Chukurova, la terra che un tempo chiamava casa, è rimasto inascoltato. Il suo ritorno è un capitolo che non è stato scritto, avvolto nel mistero del suo destino. Asmet Kolak, un altro figlio tormentato di questa terra, ha visto la sua salute deteriorarsi dietro le fredde mura carcerarie. Dopo anni di reclusione, il diabete ha preso il sopravvento, portandolo alla morte nel 1985, proprio mentre si stava valutando il suo rilascio, un crudele scherzo del destino che ha segnato la fine della sua tormentata esistenza. Abdul Qadir ha conosciuto un destino altrettanto tragico. La sua vita di reclusione si è conclusa in modo violento, stroncata da una rissa carceraria, un epilogo amaro per un uomo già segnato dalla condanna all'ergastolo. Questa è la trama complessa e sfaccettata di Terra Amara, un racconto che ci invita a riflettere sulla fragilità dell'esistenza e sulla forza inarrestabile dell'amore che, nonostante le tempeste, continua a guidarci attraverso le stagioni della vita. Con questa anticipazione speriamo di aver acceso la vostra curiosità e di avervi offerto uno sguardo approfondito sul destino dei personaggi di Terra Amara. Attendiamo con impazienza di scoprire insieme come si dipaneranno le loro storie. Se questo viaggio attraverso le vite intrecciate di Terra Amara ha toccato il vostro cuore, non dimenticate di esprimere il vostro apprezzamento con un like e di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessuna delle anticipazioni. e di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessuna delle nuove e di iscrivervi al nostro canale. e di iscrivervi al nostro canale.